Che succede là fuori, Donnie? Non lo so. Ma non la vedo bene. Prepariamoci! Il pulsante! Quale? Ce ne sono milioni! Andiamo! Che cosa siete? Supereroi? Siamo quattro fratelli che odiano i bulli. E amano questa città. No, lo sapete che poi finite col farvi male. Come ti chiami? Casey Jones. Ciao. Domandina. Voi due state insieme o...? Ho un lavoretto da proporvi. Potrebbe interessarci. Anche a me. Adesso ci divertiamo! Ragazzi, riportiamo di moda la cresta? Bella mossa! Ti credi divertente, eh? Dove sono le tartarughe? Se le cose si mettono male, servono le tartarughe! and poi riportiamo in un nuovo Account Super Mario! È la mia città! Adesso ci do questo! Dove sono le tartarughe! Svegli che ecco! Che! 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 Grazie a tutti